Noi abbiamo questo tetragramma qui, Yod-He-Vav-He, che sarebbe quello che si legge Yahweh. Testimoni di Geova deriva dal fatto che nella Bibbia, quasi tremila volte, questo nome qui non è vocalizzato Yahweh, ma è vocalizzato Yeho-Wah. Quindi non è che se lo sono inventato, c'è nella Bibbia. Poi nella tradizione nostra si è affermato Yahweh, ma Yeho-Wah c'è. Nel giugno del 2008 la congregazione Vaticana de Cultu ha pubblicato, ha mandato a vescovi e sacerdoti una circolare nella quale li si invita nella liturgia a non usare più il nome Yahweh. Perché, c'è scritto, non è cristiano. Anche perché si accorgono che se prima o poi la gente si accorge chi è Yahweh... Grazie. 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 Grazie.